Ci sta male, ci sentimo malamente, siamo tristi, ci sentimo. Perché io mi parlo molto, mi arrivo in novembre. Natale 2019, nessuna emergenza sanitaria e la città è riluminata a festa. Un anno dopo, Giuliano, a ridosso delle festività natalizie, si presenta così. Ci sta male, ci sentimo malamente, siamo tristi, ci sentimo. Perché io mi parlo molto, mi parlo di novembre. Diciamo a meno qualche luce, qualche albero in piazza. A me per dare un senso di questo periodo, un senso di buon augurio per un 2021 migliore. Nessuna luminaria, nessun albero di Natale, nessun addobbo. Le uniche luci sono quelle delle attività commerciali e delle abitazioni. Il buio rende tutto un po' più triste, ma c'è anche chi reputa giusto mantenersi sotto tono rispetto ad una emergenza globale. In questo momento non lo sentiamo nessuno dell'area natalizia. Per il Covid e senza un'illuminazione mi sembra morto. Ci vorremmo un po' di luce. Certo, Natale non si sente, quest'anno sarà molto, ma molto brutto. Speriamo che cambierà qualcosa nel 2021. L'anno particolare, ben fatto che non ci sono queste illuminazioni, perché dobbiamo rispettare altre persone purtroppo che hanno avuto problemi del Covid. Sarà un Natale difficile e sotto tono, aveva annunciato il sindaco di Giuliano, Nicola Pirozzi. Non avremo nulla da festeggiare perché le risorse vanno destinate al commercio e alle fasce più deboli. Come amministrazione ha proseguito il sindaco nei giorni scorsi, pensiamo di non mettere le luci di Natale. Per questo motivo oggi Giuliano non è adornata a festa.